IT Transformation, le best practice dell'innovazione. E con questo messaggio che EDC lancia il Roadshow 2013 con 5 partner tecnologici, APC, Cisco, IMC, Intel, VMware. Un'iniziativa che ci porterà in giro per l'Italia sarà un'iniziativa itinerante, da aprile a settembre toccherà diverse città italiane. Ogni tappa avrà il contributo di EDC che porterà la visione del mercato, accompagnata con i risultati di una web survey che sta accompagnando la promozione dell'iniziativa e quindi le aziende partecipanti avranno la possibilità di dare un contributo al tema dell'IT Transformation. Insieme a EDC ci saranno ovviamente i contributi dei casi utenti, quindi delle aziende che porteranno le loro testimonianze, le aziende del territorio e naturalmente i 5 partner tecnologici si interrogeranno insieme a EDC su come le tecnologie rappresentano un fattore abilitante dell'IT Transformation, soprattutto nella direzione del supporto all'innovazione aziendale. C'è grande bisogno di confronto e di networking, a maggior ragione in questo 2013 che sarà un anno molto veloce, pensiamo che portare questi contributi sul territorio, su diverse città, sia un grande valore per le aziende che operano in diversi contesti territoriali e che hanno bisogno di confrontarsi per guidare una trasformazione che parte dall'IT ma che coinvolge l'intera azienda e quindi fondamentale per chi parteciperà potersi confrontare con altre aziende, con i partner e anche con EDC su come abilitare questa trasformazione. Vi aspettiamo, non mancate! Grazie a tutti!